ASTUTTO Psst! Tuk Tuk, concentrati! Quella zampa? Ti giro io. Da quando sono nata mi addestro per diventare guardiana della gemma del drago. Ma il mondo è cambiato. E i popoli sono divisi. Ora, per ristabilire la pace, devo trovare l'ultimo drago. Il mio nome è Raya. Tuk Tuk! Sei troppo grande per questo giochetto. No!